Bentornati su MyFootballGersey. Ormai i mondiali in Qatar si sono conclusi, ma continuiamo a vedere le maglie delle squadre che vi hanno partecipato. Questa è la seconda maglia della Polonia in versione FAN. Prevalentemente rossa, la maglia da trasferta Nike Polonia 2022 ha colletto i polsini bianchi, entrambi caratterizzati da una linea rossa al centro. Realizzata in una vestibilità regolare utilizzando la tecnologia DryFit traspirante di Nike per mantenerti fresco e comodo. La maglia da casa è rifinita con il logo del marchio e lo stem del nazionale presente sul petto. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poli-riestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. È una maglia semplice, tinta unita rossa con questo bordino bianco. Nella mia classifica questa prende solo, diciamo così, scusate, tre stelle. Bella, se vogliamo, con un'ottima qualità, ma non sicuramente una delle mie preferite. Qui in alto vedete il costo, che però è, come al solito, eccezionale, straordinario. Peraltro vi ricordo che in descrizione trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari e quindi il costo diminuisce ulteriormente. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Spero nel frattempo che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.